Seconda parte del Veni Vidi Vinci qui alle 23.14, seconda parte dedicata alla musica in questo Music Vidi Vinci ma musica e cinema, come diciamo sempre, sono strettamente connesse ed è per questo che mandiamo il momento dedicato al cinema in particolare partiamo con il trailer in anteprima proposto qui al Veni Vidi Vinci che arriverà a quanto pare nelle sale del weekend speriamo, incrociamo le dita, che sia un trailer serio ecco, un'altra volta, si, sembra Harry Potter ma non lo è Albus si sente, mi senti? si, si chiede questo Harry, dimmi velocemente che stavo rollando una canna si una canna? si, quelle che si usano per pescare è bravo Albus ah, senti Albus si sente, io non riesco a trovare questo kit a morte, ma nel castello non c'è senti, vai a farti una vacanza molto diretto questo Albus tieni, ecco un biglietto di sola andata per Amsterdam eh, Amsterdam buona canna, eh, vacanza molto veloce a parlare quest'Albus Albus mi ha dato un viaggio gratis, ma perché? eccomi all'ario ah, Kitamort sei qui? ha cambiato la canzone si, lavoro in un coffee shop, vieni che ti offro qualcosa buono ah, Kitamort già è diventato blu si, si è drogato uh, guarda quell'elefante che vola ma, ma, ma dove va la mia mano? è il mio stomaco non ci posso credere uh, guarda come corre Harry Popper è il prigioniero di Amsterdam al cinema ma il film reale era un altro non era il prigioniero di Amsterdam non è il prigioniero di Amsterdam